L'Olea Vagnina è iniziata dalla panchina alla partita ma è finita con il giro di mazza decisivo, una bella soddisfazione? Sì, bella soddisfazione, bisogna sempre stare pronti, non è detto che se parti dalla panchina poi ti devi andare a prendere un caffè, un cappuccino o un croissant e stare lì seduto a guardare la partita, bisogna sempre stare concentrati, bisogna sempre stare pronti in qualsiasi momento, cercare di dare una mano anche, fai attenzione, ti sta lanciando interno al compagno, bisogna sempre stare compatti anche se si parte dalla panchina. È stato un turno in battuta molto emozionante, visto delle tribune, due strike, poi il terzo gol con il check swing, poi due foul ball e poi il giro di mazza decisivo su una palla veloce. Sì, una palla veloce interna, continuo a tirarmi esterno, 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 prima o poi me la tira quella lì, ho avuto un po' di difficoltà in questi giorni qua, proprio su quelle palle lì, me l'aspettavo che mi giocasse lì, mi sono preparato bene e è andata bene. Diciamo che questo è un passo decisivo verso la finale. Adesso in poi ogni partita è una finale, anche questa era già una finale, per Mazzotti era già molto più importante che per noi, infatti il peso era più grosso da portare sulle sue spalle, non di sicuro sulle nostre, perché loro hanno già perso contro l'Olanda, quindi adesso lui è lì lì, salvo errori di qualcun altro. Quindi bisogna sempre stare concentrati dall'inizio alla fine, come se fosse una finale, da qui in poi è così.